Chi comprava quel pandoro era convinto di fare beneficenze, cioè era convinto che comprando quel pandoro l'entità della donazione finale all'ospedale di Regina Margherita sarebbe aumentata, insomma la cifra sarebbe aumentata. Quindi questo è successo veramente, non escludo chiaramente che molti abbiano comprato il pandoro anche perché era rosa, c'era lo stencil. E perché era associato a lei, questo intendo, no? È difficile, però è difficile, sì ma voglio dire l'ambiguità dell'operazione rende indistinguibile l'intenzione e lo scopo ultimo del consumatore. Vedi questa ambiguità di fondo appare in tantissime operazioni benefiche, sia di Chiara Ferragni che di Fedez. Quello che io mi domando quando parlano di errori di comunicazione, ma è davvero così difficile spiegare qual è lo scopo, cioè qual è la destinazione di una donazione e in che modo si dona, cioè in realtà è molto semplice. Corrado, non è che si tratta di spiegare la fissione nucleare, cioè devi dire questo pandoro costa 8 euro, 2 euro andranno in beneficenza. Com'è possibile che la loro comunicazione fosse sempre così fumosa? È perché l'operazione era fumosa e quindi gettavano fumo negli occhi dei consumatori che non dovevano capire. E poi alla fine chi ci guadagnava di più era Chiara Ferragni o Fedez. Ci potrà re...